Siamo in un momento abbastanza complesso perché se da un lato abbiamo visto il riconoscimento dei giusti sforzi sostenuti dalla società di gestione nella crescita della struttura a livello internazionale con l'assegnazione da parte del Ministero del Derby del Trotto e di tutte le corse più importanti del panorama del Trotto italiano qui a Napoli che potremmo definire un evento storico, da un altro siamo però privi sia del contratto per il 2018 sia con il MIPAF e quindi non abbiamo un punto di riferimento economico per poter andare avanti a sette mesi, oramai siamo a luglio e nemmeno abbiamo un contratto con il Comune di Napoli perché a seguito della proroga ancora dobbiamo sottoscrivere il contratto e tra l'altro apprendiamo che poi l'impianto è stato messo in vendita da parte del Comune venendo meno quindi anche la prospettiva della gara per la gestione ventennale siamo un po' sulle spine e con noi ovviamente tutta la filiera che va dai dipendenti agli operatori perché vorrebbe avere una chiarezza su questa struttura che invece con l'andare avanti del tempo pur con il miglioramento degli asset strutturali e dei risultati internazionali non si riesce ad ottenere Per quanto riguarda il Comune c'è un'interlocuzione costante, cortese e collaborativa di fatto siamo in attesa di poter sottoscrivere il contratto c'è stata comunque la proroga che ha di fatto messo l'azienda nelle condizioni di poter proseguire comunque adesso deve essere formalizzato attraverso il passaggio della sottoscrizione però abbiamo perlomeno una prospettiva di andare avanti fino a fine marzo 2019 che mi sembra abbastanza breve per pensare in grande con una struttura del genere quindi avremmo preferito comunque capire se ci fossero ancora gli estremi per poter riproporre un progetto di gestione ventennale e siamo in attesa di chiarirci con il Comune Per quanto riguarda invece le dinamiche ministeriali è necessaria la firma del contratto 2018 e soprattutto che incominciano a pagare i primi sei mesi, sette mesi di attività svolta per conto del Ministero e soprattutto poi che ci dicano quali sono le prospettive dell'impianto perché se un impianto viene valorizzato al punto di vista dell'attività deve essere anche poi comunque a quell'impianto deve essere adeguata una retribuzione pari al lavoro svolto che al momento rimane assoluta nella nebbia più fitta è difficile adesso programmare il futuro dell'impianto in una situazione dove si pensa invece di fare una relazione di stima una messa all'incanto della struttura se è quello che così deve avvenire la vendita Grazie